Ben ritrovati a tutti con una nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo questa edizione raccontandovi quello che sta accadendo in Salento. Salta infatti a domani l'intervista prevista da Bruno Vespa alla Premier del Consiglio, Giorgia Meloni. La stessa infatti era attesa a Manduria, dove avrebbe aperto la manifestazione Forum in Masseria, in programma fino a domenica nella tenuta di proprietà proprio del giornalista Vespa. Secondo quanto si apprende dagli organizzatori, i vari impegni della Presidente del Consiglio durante la giornata le impediscono di arrivare in tempo per la rassegna, per cui dovrebbe arrivare a Manduria verso le 21 e fermarsi a cena proprio per l'intervista prevista domani mattina. E continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca. In Prefettura a Potenza si è riunito un tavolo tecnico per definire tutte le linee guida in vista dell'arrivo dei lavoratori stagionali. Dobbiamo seminare e far crescere il frutto della legalità. Ha esordito così il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, presiedendo il tavolo provinciale per il contrasto al caporalato, che si è riunito in Prefettura a Potenza per fare il punto sulle azioni da sviluppare e completare per l'accoglienza dei braccianti extracomunitari che lavoreranno per la raccolta dei pomodori nella provincia di Potenza. Punto nevralgico dell'accoglienza resta l'ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio, luogo da anni indicato per poter ospitare fino a 300 lavoratori. Sul punto Campanaro ha anticipato che a breve sarà affidata la gestione della struttura alla società che si occuperà di allestirla per permettere ai migranti di risiederci nei mesi di raccolta. Finiamo intanto il punto relativo all'allestimento della struttura di accoglienza provvisoria presso l'ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio. La Regione ha chiuso le procedure di gara e quindi oggi definiamo e concordiamo di intesa anche con gli altri componenti del tavolo i tempi che avevamo ipotizzato entro la fine del mese di giugno di apertura del centro. E questo è già un dato senz'altro positivo. L'altro aspetto, l'altro profilo che è importante continuare a portare avanti su cui dobbiamo lavorare, sicuramente l'attività di sensibilizzazione e stimolo del mondo agricolo in generale e proprio con questo obiettivo, cioè quello di allargare il sistema della rete del lavoro agricolo di qualità. C'è una crescita ancora modesta nei numeri. Se consideriamo che a marzo scorso, quando ci siamo visti, parlavamo per la provincia di Potenza di 15 aziende iscritte alla rete. Oggi sono 20, non sono cresciute di tanto, però è un segnale che qualcosa si sta muovendo. Tragedia nel Salento. È stato ritrovato morto un bambino di 14 mesi nella sua culla. È stata già predisposta all'autopsia sul cadavere. Secondo le prime ipotesi dovrebbe trattarsi di morte naturale. Sarà l'esame autoptico a chiarire le cause del decesso del bimbo di 14 mesi di Casa Massella, frazione di Uggiano, la chiesa in provincia di Lecce. Il piccolo è stato trovato senza vita sul suo lettino. A chiedere soccorso è stata la madre con una telefonata agli operatori sanitari. La donna riferiva che il bimbo non reagiva ed era rigido. C'è un'indagine ora in corso, coordinata dai carabinieri di Minervino. Il bambino, figlio di una coppia rispettivamente di 50 e 40 anni, non aveva segni di violenza sul corpo. Negli ultimi giorni, però, era stato visitato da un pediatra perché stava poco bene. Dopo l'intervento delle ambulanze del 118 in casa, era stata predisposta alla restituzione della salma del piccolo alla famiglia, visto che si era ipotizzato che il decesso fosse dipeso da cause naturali. L'autorità giudiziaria ora ha disposto il trasferimento in camera mortuaria per l'autopsia. Dalle prime verifiche pare si tratti di una morte per cause naturali, la cosiddetta morte in culla. È un evento tragico più frequente tra uno e cinque mesi di vita, ed è una delle cause principali di morte nel primo anno di vita. Siamo profondamente addolorati nell'apprendere la tragica notizia della perdita del piccolo angelo, scrivono il sindaco Stefano Andrea De Paola e l'amministrazione comunale sulla pagina Facebook del Comune. In questo momento, scrivono di grande tristezza, desideriamo esprimere a nome dell'intera comunità le più sincere condoglianze alla famiglia colpita da questa terribile perdita. Siamo a loro vicini in questo momento di dolore e sofferenza e offriamo il nostro sostegno e la nostra solidarietà in ogni modo possibile. Speriamo, concludono, che possano trovare conforto e forza in questo difficile momento. Cambiamo pagina, logistica e infrastrutture. La Puglia è pronta ad essere volano per tutto il mezzogiorno. Se ne è parlato in una riunione speciale voluta dalla DHL Express. La Puglia è pronta ad essere capitale logistica d'Italia per l'Europa e per il resto del mondo e l'obiettivo tracciato dall'assessore allo sviluppo economico Alessandro Dellinoci in occasione della presentazione degli interventi sulle sedi operative della società logistica DHL presenti sul territorio pugliese. Il potenziamento della logistica rientra nella strategia che fa della Blue Economy il principale asset di sviluppo. Stiamo costruendo una strategia sulla Blue Economy, una strategia intersettoriale che coinvolge i vari settori e chiediamo che la logistica sia uno degli assi primari su questa strategia. La logistica riesce a movimentare merci ma soprattutto riesce a creare un filo conduttore rispetto agli investimenti industriali perché la Puglia può essere un primo approdo verso le merci che vengono dal sud-est Europa e anche da altre parti del mondo e quindi può essere una base logistica italiana. In campo ci sono numerosi interventi per favorire lo sviluppo dell'interporto di Bari e dell'intera viabilità logistica regionale ha puntualizzato l'assessora alle infrastrutture e trasporti Anita Mauro di Noia. Ovviamente ci sono diversi interventi strategici a supporto proprio delle aziende in modo particolare dell'interporto. Come qualcuno di voi sa stiamo cercando di incidere sul Ministero per ottenere più risorse proprio per realizzare queste infrastrutture. Ne faccio un esempio il collegamento tra l'autostrada, il casello autostradale e la statale 16 ma non soltanto anche il nuovo casello autostradale Bari Nord Porto con l'annessa poi connessione con la strada statale 96 ma anche la camionale. Nell'ultimo triennio gli investimenti di HL Express Italy in Puglia territorio su cui è presente da 40 anni sono stati di 350 milioni e hanno prodotto circa 200 posti di lavoro. Gli investimenti non sono solo le infrastrutture, abbiamo circa 10.000 metri quadri diciamo in tutta la Puglia dove processiamo molte spedizioni verso tanti paesi del mondo. l'80% di quello che facciamo è a destinazioni internazionali. E a Taranto è stato organizzato l'incontro Sesei Sindaco una piattaforma per mettere in contatto tutti i primi cittadini e condividere così le buone pratiche di un'amministrazione. Confrontarsi, collaborare e condividere le buone pratiche amministrative sono le tre azioni che caratterizzano la mission della community Sesei Sindaco l'organizzazione che ha come obiettivo quello di fornire ai primi cittadini dei comuni italiani, tutti gli strumenti pratici ed immediatamente applicabili per il buon funzionamento di un'amministrazione pubblica. Questi anni siamo diventati una massa critica, importante, interessante ma che non ha nessuno scopo competitivo con le associazioni istituzionali come ANCI e ALI ma che anzi si offre come strumento in più per fare squadra tra sindaci. Uno strumento caratterizzato dalla socialità, dall'eliminazione delle distanze tra istituzioni e base, così come attraverso Facebook i cittadini possono scrivere direttamente al sindaco per esempio nella nostra community c'è Antonio De Caro che scrive direttamente ai sindaci magari raccogliendone le istanze, le lamentere, i suggerimenti. Nella sede della provincia di Taranto ha organizzato l'incontro per far conoscere il programma e le finalità dell'associazione, puntando l'attenzione al percorso che è tracciato dai sindaci porta dalle linee di indirizzo ai risultati concreti attraverso un efficace ciclo della programmazione. Il sindaco è uno dei ruoli più difficili perché da un punto istituzionale tutto quello che lui fa nell'immediato si rivede a un immediato ritorno quindi riuscire a rappresentare la popolazione in un momento in cui le democrazie sono in sofferenza non è un esercizio facile. Quello che dovrebbe essere fatto sicuramente è avere degli strumenti di collegamento migliori per quanto riguarda i consigli comunali, le giunte, in maniera tale da poter rappresentare meglio le istanze della città. Spostiamoci in Capitanata dove il borgo dei fossi di Accadia tornerà a vivere grazie ai finanziamenti del PNRR a deciderlo. È stato Regione Puglia e pensate l'unico borgo proprio della Puglia. Questo posto suggestivo e storico, abbandonato nel tempo, è il rione fossi di Accadia nel Fugiano. A breve tornerà a rivivere perché sarà riqualificato grazie ad un progetto di rigenerazione che ne farà una cartolina attrattiva e un contenitore di proposta culturale e turistica. Non c'è solo una parte di finanziamento dedicata alla realizzazione delle opere ma c'è una parte che è destinata all'avvio delle attività di impresa all'interno del rione Foss. Ci saranno 4 milioni di euro destinati proprio all'apertura del rione Foss. 20 milioni di euro finanziati dal PNRR, la riqualificazione promossa da Tecnopolis di concerto con Asset Puglia nell'ambito del progetto di cooperazione Bots5. Con questo progetto abbiamo voluto portare a conoscenza non solo dei partner italiani e dei partner croati ma nell'intero panorama europeo luoghi meno noti, luoghi che fanno parte del patrimonio naturale e culturale che non sono ancora conosciuti. Abbiamo scelto Accadia proprio perché è oggetto di questo importante finanziamento che rapporterà una importante riqualificazione. Una parte degli interventi è stata già compiuta e la rigenerazione del borgo medievale disabitato dagli anni Sessanta proporrà il Museo Civico, il centro di formazione, l'ostello con ciclo-officina, l'albergo diffuso, il padiglione dei Monti Dauni e il parco archeologico sul resto della chiesa madre e degli ipogei. Ma in realtà la parte paradossalmente più interessante è proprio quel patrimonio di 52 unità abitative che sono già di proprietà pubblica perché espropriate dopo i due terremoti che hanno svuotato Rione Fossi e che si candidano naturalmente ad essere nuove unità abitative per gente che si voglia insediare qui, nuovi luoghi di produzione e poi accoglienza ricettiva per turisti lenti, turisti che vogliano stare in un posto. Il Rione dei Fossi di Accadia sarà testimone di come la valorizzazione dei siti possa tradursi in sviluppo turistico sostenibile, anche in ricordo dei versi di Matteo Salvatore. E giugno è il mese della donazione, è stata presentata la nuova campagna di sensibilizzazione dell'Avis proprio a donare in vista dei difficili mesi estivi. 20 minuti che valgono una vita e il tempo necessario per effettuare una donazione di sangue. L'Avis provinciale di Bari ha presentato una nuova campagna di sensibilizzazione in vista della stagione estiva, periodo durante il quale aumenta la richiesta di trasfusioni. Goccia dopo goccia, un mare di solidarietà è questo lo slogan scelto quest'anno. Per tutto il mese di giugno nella provincia barese saranno organizzati open day per le donazioni e manifestazioni di sensibilizzazione. Lo scorso anno a livello di regione Puglia sono state raccolte 176.000 sacche tra sangue intero e plasma. Abbiamo recuperato fino al 2019, ma non del tutto. Noi facciamo l'appello soprattutto ai giovani, ma a tutti i cittadini in età che possano donare prima di andare in vacanza effettuare un gesto di solidarietà e di altruismo. 20 minuti del proprio tempo dedicato alla donazione di sangue dona a chi ne ha bisogno un'eternità. Per cui l'appello che noi facciamo è andare, andare, andare a donare. Evitiamo che vi sia un'emergenza sangue nel 2023. Sebbene le donazioni nel primo trimestre del 2023 abbiano registrato un incremento rispetto all'anno precedente, occorre fare in modo che il trend continui in positivo. I dati che abbiamo sono soddisfacenti perché nel primo quadrimestre del 2023 c'è un leggero aumento del numero delle donazioni, sia di plasma che di sangue. Noi speriamo di poter continuare a garantire l'autosufficienza sia a livello di regione Puglia sia a livello nazionale, perché un dato negativo c'è stato l'anno scorso a livello nazionale con una diminuzione delle donazioni di plasma. E questa edizione del nostro telegiornale termina qui. Grazie per averci seguito. A voi tutti una buona serata.